ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere questo nuovo film arrivato in dvd ed è il figlio di chachi altro capitolo della saga di la bambola assassina la famiglia del terrore sta crescendo dvd video edizioni masters universal molto bella copertina questa è il laterale figlio di chachi questo è il retro qui con alcune immagini del film la trama contenuti speciali in altre informazioni non ho fatto l'interno a e qui ovviamente c'è solamente il dvd non è come l'altro che c'era anche il blu ray disc questo comunque la stessa immagine di copertina del disco niente di eccezionale e niente ragazzi mettete piace commentate iscrivetevi al canale come sempre ci vediamo un prossimo video ciao a tutti belli